Ho una notizia meravigliosa da raccontarvi, da oggi la Puglia è la prima regione italiana che ha uno screening generalizzato neonatale per diagnosticare l'asma, l'atrofia muscolare spinale, questa terribile malattia. È una notizia meravigliosa, è vero, ma che si è costruita dopo che il dolore, la tragedia ci è stata sbattuta in faccia, mi è stata sbattuta in faccia. Non conoscevo mille risvolti di questa malattia, ma poi a un certo punto è capitato che prima con Melissa, poi con Federico, poi con Marco, poi con Paolo, ho capito che prima le diagnostichi meglio è, perché prima lo sai e prima hai l'opportunità di scegliere tra le diverse terapie, perché se è tardi riduci la possibilità di scelta tra le terapie e magari arrivi nel momento in cui è troppo tardi, nel momento in cui quella malattia ha fatto grandi danni. Quindi vedete, si sono mischiati questi sentimenti, questi sentimenti di dolore, di tragedia che mi hanno fatto a poco a poco cercare, mi hanno imposto di capire cosa fare e cosa fare da sempre lì nell'informarsi, nel chiamare le persone esperte, quindi prima il Dottor Trabacca dell'Irxmedia di Brindisi, poi il Dottor Gagliardi del Giovanni XXIII di Bari e poi l'incontro con un mio concittadino, il Dottor Mattia Gentile, un genetista che mi ha aiutato a scrivere proprio la proposta di legge e poi la proposta di legge che viene presentata e poi tanti colleghi che con entusiasmo decidono di apporre la loro firma, ma non solo la loro firma, anche il loro sentimento e poi andare in Consiglio regionale e vedere che all'unanimità viene approvata questa legge, una legge di iniziativa consigliare su un argomento così potente ed imponente e naturalmente ti scorrono dinanzi tutte le immagini di questi mesi in cui il dolore ti ha imposto di dare una risposta, quali erano queste immagini di questi mesi? Per esempio la prima immagine era quella che in Italia sin dalla fine del 2018 lo screening neonatale per queste malattie è un LEA, però si tarda ad inserirlo in un elenco, un mero atto amministrativo e tutto questo genera cosa? Genera purtroppo la mancata effettuazione del test e quindi la mancata effettuazione del test cosa genera? Genera una diagnosi tardiva su una malattia che prima intervieni, meglio è. in quei momenti in cui ti si squaderna questa situazione che è una situazione molto terribile in cui dici ma forse qualcosa si può fare, in quei momenti se sei animato da buone intenzioni come sono stato animato io, siamo stati animati tutti, si porta a compimento una cosa buona affinché non accada mai più, mai più che un bimbo per una di ognosi tardiva, che una bimba perché magari non ha incontrato il professionista giusto quando era il tempo, poi si possa ritrovare con dei segni che dicono che è arrivata questa malattia terribile, una malattia rara, però era una malattia terribile, rara per fortuna, ma terribile e quindi riconoscere quei segni che fino a questo momento poteva essere soltanto un fatto sapienziale, oggi abbiamo anche la possibilità di saperlo prelevando una goccia di sangue, è appena nato il bimbo o la bimba, portarla ad un laboratorio di genetica e sapere dopo qualche giorno come andrà e come andrà su questo? Ecco la bellezza, questa meraviglia che nasce dal seme che si chiama dolore, perché il seme si chiama dolore e allora l'amministrazione pubblica, l'amministratore pubblico fa qualcosa, si riconcilia con sé, con il contesto in cui vive, impara cose nuove, per esempio sa, perché io lo so e lo dico a voi che fra qualche anno anche questo test sarà superato perché nel frattempo la potenza del genio umano avrà messo a punto il sequenziamento delle soma, che è un'altra prova genetica che mi hanno riferito che ha un potenziale straordinario da fare spavento. Ecco che cosa significa l'amministrazione pubblica che si apre alla scienza, alle scienze, a che cosa serve? Mica serve per scrivere un libro, un catalogo, serve perché questa ricerca, questa tecnologia, questo lavoro del genio umano possa essere applicato nelle vicende quotidiane, nelle difficili e sofferenti vicende quotidiane che noi uomini siamo costretti da attraversare a vedere e questo è, in questo consiste la notizia meravigliosa che ho da darvi, è stata una bella storia, una bella storia che viene portata a compimento e che da questo momento fa della Puglia, lo ripeto ancora, la prima regione in cui questo screening è generalizzato, che notizia meravigliosa, fatelo sapere a tutti, non per appagare la vanità di chi si è cimentato, ma per far sapere che questa regione in un momento importante e decisivo su questo argomento ha dato la sua risposta di modernità e anche la sua grande risposta di cuore, che notizia meravigliosa!